Goffredo, mostraci i prodotti che saranno utilizzati per questo menù. Assolutamente, tartufo molisano ovviamente, partiamo subito da lui, scorzone nero estivo, azienda principe, forosolone, leader nel settore ormai da tanti anni. Le uova ovomatese, sempre prodotto locale, patata di Miranda, è una patata locale della valle di Montagna, coltivata direttamente dai contadini della nostra zona. Il caciocavallo, la serenella, è un caciocavallo stagionato e fresco, il fresco lo utilizzeremo per risotto e invece lo stagionato per i taglieri di salumi. Lì abbiamo la focaccia mirandese, classica focaccia del forno Blanz di Miranda, la scamorsa passita del caseificio Santa Lucia, che sarà il nostro secondo piatto, il tutto condito dall'olio Le Drupe, oleificio aperto da due anni, sempre mirandese, riqualificato dai ragazzi, dai ragazzi giovani. Veramente un grandissimo prodotto. La cosa interessante è che quest'anno, siccome il menù è senza glutine, utilizzeremo il riso, non pasta o altro, come primo piatto, un riso di qualità, un fornitore con cui abbiamo sempre lavorato, tre anni di invecchiamento, ma soprattutto l'attenzione è spostata sul fatto che il menù è senza glutine all'origine, ma daremo come pane, un pane fatto artigianalmente, qui a Isernia, da abate. Un'altra cosa interessante è il fatto che noi utilizzeremo stoviglie eco-sostenibili, eco-friendly, sono in cellulosa, quindi sono prodotti che vanno direttamente nel compost dell'umido.